La semplice verità dello yoga è che sebbene venga fatto passare per un salutare esercizio fisico o un modo per rilassarsi, in realtà è spiritismo, condannato severamente nella Sacra Scrittura. Difatti dietro questo potere occulto si nasconde il diavolo, il cui scopo è di sviare e sedurre il mondo intero. Apocalisse 12 verso 9. Badate molto bene dunque di non farvi ingannare da Satana e dai suoi demoni, il quale a volte si traveste da angelo di luce per poter ingannare meglio le persone. Ricordo peraltro che si può dare accesso a delle potenze malvagie nella propria vita. Molti infatti sono i casi di possessione a seguito di tali pratiche. Anche se questo può forse offendere e far arrabbiare molte persone, è doveroso essere schietti e dire la verità per quanto delle volte questa possa essere scomoda o non piacevole. Avvaletevi dell'aiuto della Sacra Bibbia che è la parola di Dio. Lo yoga in qualsiasi forma non può assolutamente essere utile e anzi può soltanto danneggiarvi, così come il reiki, la meditazione trascendentale e tutte quelle pratiche orientali che stanno diffondendosi in un occidente sempre più confuso ed ammalato. Solo Cristo è la vera luce e la vera pace. Grazie. Grazie.